A che cosa avete lavorato oggi? Alla difesa dell'ambiente. Inizio adesso? Sì, costruisco mille asili nido per i bambini di tutto il mondo. Di cosa avete combinato? Lei ha battuto 200 barriere architettoniche e lei ha fatto sorridere 250.000 anziani. Quando fai la denuncia dei redditi e doni il 5 per 1000, scegli solo organizzazioni serie e trasparenti. 5 per 1000. Informati prima di donare. Grazie.